buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 17 maggio 2023 e sembra di essere ancora in inverno ovvero quando le piogge quando la temperatura veramente è rigida e questa mattina fa fresco ma soprattutto il cielo e plumbeo e i nuvoloni si addenseranno anche nella giornata di oggi su tutte le marche vedremo dopo le previsioni del tempo ma in questa rassegna stampa dedicheremo molto tempo per così fare vedere quello che è accaduto nella giornata di ieri dove sono verificati quando si sono verificati tanti allagamenti e tanti disagi ai residenti delle città e delle campagne dicevo che oggi è mercoledì 17 maggio 2023 vediamo chi si festeggia oggi nell'armanacco del giorno e vediamo che c'è San Pasquale Bailon San Pasquale Bailon uno spagnolo un francescano frate francescano detto il santo dell'eucarestia mostrò una particolare predilezione per questo sacramento di fronte al quale stava in lunghe meditazioni e cadeva in estasi anche dopo la sua morte San Pasquale compì molti molti miracoli per cui fu molto venerato in Spagna ma anche in Italia qui vicino a Fano nei pressi di San Giorgio c'è un santuario dedicato a San Pasquale Bailon lo si dice San Pasquale Bailon il protettore delle donne ma in realtà San Pasquale protettore di tutti di grandi di piccini di anziani di uomini e di donne questo è San Pasquale ed ora vediamo le previsioni del tempo instabilità diffusa su tutte le marche con rovesci e temporali di nuovo più intensi nel Pesarese nell'Urbinate e anche nell'Appennino Romagnolo venti tesi da est e nord est sulle coste e da nord est nell'introterra le temperature se girano dai 13 ai 17 gradi attenzione perché anche oggi sarà una giornata molto molto difficile da affrontare per il maltempo piogge in continuazione tra schiarite e addensamenti nuvolosi il mare è molto mosso e vediamo che gli effetti del vento sul mare alzeranno le onde a circa due metri questo affermano dunque le previsioni del tempo e allora apriamo il giornale facendo una panoramica di quello che è avvenuto nella giornata di ieri ecco il titolo che compendia un po' tutto quanto avvenuto in regione marche sommerse da 12 ore di pioggia allargamenti e strade interrotte nel centro nord Senigallia in ansia Senigallia una città molto provata danni anche nel pesarese 650 chiamate pensate ai vigili del fuoco i fiumi reggono al momento non sono esondati invece i fossi hanno traccimato in diversi punti e adunque il tempo dovrebbe iniziare a migliorare nel primo pomeriggio ma intanto questa mattina si prevede una pioggia intensa c'è l'allerta arancione anche oggi le scuole restano chiuse e soprattutto vengono annullate molte molte manifestazioni ieri sera doveva tenersi il consiglio comunale a Fano ma è stato annullato appunto come così diverse iniziative in programma e c'è una intervista rilasciata a rilasciata Oreficini che è esperto di protezione civile il quale dice dobbiamo diventare resilienti come il Giappone con i terremoti quindi dobbiamo essere attenti dobbiamo prevenire i danni costantemente dalle alluvioni dagli acquazzoni dai temporali dalle tempeste perché queste possono arrivare in qualsiasi stagione da un momento all'altro quindi dobbiamo avere la cura del territorio la cura dei fossi la manutenzione un po di tutto quello che è l'impianto fognario in modo da prevenire e da evitare i danni che si sono che si stanno verificando aspettando l'onda di piena ma così non si può vivere Senigallia con il fiato sospeso per ore sul lungomisa e vedete qui nelle fotografie come l'acqua si sta avvicinando pericolosamente alla sommità degli argini a sinistra il fiume misa ingrossato dalla pioggia battente che torna a fare paura per quanto riguarda i residenti e poi ancora una provincia in apnea quella di pesaro urbino tagliata in due esondato il genica allagate le strade sottopassi e garage il piazzale dell'azienda scavolini alle 11 di ieri mattina era un enorme piscina a cielo aperto questo affogando ha detto ridendo in modo amaro però un ragazzo il cui video è stato virale nei social il genica passato da rigagnola gigante in pochi minuti ha oltrepassato gli argini invadendo le strade largo madonna di loreto ad un certo punto era una cartolina surreale sembrava venezia con l'acqua dicono i giornali e poi il torrente era chiuso tra le pareti di cemento è esondato in più punti dal quartiere periferico celletta fino a via bel gioioso allagamenti e ripetuti blackout e si sono verificati ovunque con disagi soprattutto per chi ha delle cantine dei garage degli interrati e attività a piano terra anche a ponte valle l'acqua e la melma sono entrate nella casa senza bussare dicono i giornali cioè improvvisamente in maniera inarrestabile provocando molti molti danni e danni anche multipli ed estesi dalla costa al primo introterra rimbalzando da vorgo santa maria a villa cecolini passando poi per il ledimar la collina dell'edimar a osteria nuova frazione di monte labate insomma diverse località sono state coinvolte dal fiume di acqua e fango che è di ramac di lavato per le strade e invadendo un po tutto e poi ancora a gradara il sindaco gasperi ha aperto il palazzetto per eventuali sfollati tra cui una coppia con una bimba di quattro mesi è stato veramente un assedio la protezione civile ha lavorato ovunque senza sosta dalle silicate a parte della romagna chiuse fino alle 13 e le 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 strade e in certi punti e poi anche nel nostro territorio abbiamo dovuto aprire il portone per evitare che la pressione dell'acqua lo spaccasse è stato detto da un residente di marotta quando puliranno torrenti e fiumi si chiede ciavarini il proprietario di un noto ristorante nei pressi dell'azilla non lontano da carignano che viene invaso ogni volta che piove anche non insistentemente dall'acqua capirete quello che è accaduto nella giornata di ieri quindi ancora ciavarini sott'acqua e poi ancora altre pagine dedicate al maltempo la lunga notte del foglia e le scuole restano chiuse la piena del fiume è in attesa già nella tarda serata ricci e paolini chiederanno lo stato di emergenza e qua un salvataggio difficile e quindi molto diciamo così che fa notizia una bimba di quattro mesi è stata salvata mentre era in braccio alla mamma che non riusciva a uscire dalla propria abitazione grazie ai vigili del fuoco ebbene tutto questo è successo nelle ore più critiche dell'emergenza nel comune di gradara lungo la strada che porta alla frazione di santo stefano è stata raccolta qui la segnalazione di una giovane coppia che rischiava di rimanere intrappolata nel piano terra della propria abitazione sono giunti i vigili del fuoco con pompe con mezzi e per liberare la dalla fanghiglia l'abitazione la bimba era ancora in casa in braccio alla mamma dice il vigile l'ho presa e l'ho portata in salvo quindi con grande soddisfazione di tutti pensate e la paura e l'ansia dei genitori strade invase da acqua e fango e la flaminia diventa un fiume un articolo che riguarda anche il fanese frane nelle colline sopra fano timori a ronco sambaccio ebbene anche in questo territorio il tempo ha lasciato alle spalle una voluminosa scia di danni e di disagi cantine e garage allagati a metauriglia torrette ponte sasso carrara e cucurano soprattutto nella zona della chiesa strade e sottopasse e sottopassi impraticabili smottamenti e frane la più grave si è verificata a ronco sambaccio e poi ancora alberi crollati spiagge sferzate da una erosione marina fuoribonda anche qui sono stati mangiati metri e metri di spiaggia e poi ancora ci sono stati dei provvedimenti assunti nelle strade un senso alternato nella stradale adriatica torrette in un tratto invaso per metà da un vasto ristagno d'acqua chiusure temporanee a ponte sasso dove è esondato rio crinaccio e in viale piceno a fano lo stesso tipo di provvedimento inoltre riguardato i sottopassi del lido al vallato e via 4 novembre e poi in strada per camminate fosse sei ore dove nel tardo pomeriggio di ieri si lavorava ancora per ripristinare la viabilità nei sottopassi colmi d'acqua insomma è stato veramente una giornata molto molto diciamo così una giornata terribile per tutti coloro che si sono impegnati nelle operazioni di soccorso e soprattutto per coloro che dovevano provvedere a intervenire da un punto dall'altro ovvero per i tecnici del COC che hanno lavorato tutta la notte e tutta la giornata e anche questa notte sono stati controllati i livelli dell'acqua dei torrenti dei fiumi l'azilla il metauro il foglia sono stati monitorati costantemente veniamo alle altre notizie vediamo alle altre notizie vediamo un fatto di cronaca preso il ladro in cubo delle ditte ha ripolito pure l'urna cineraria all'interno l'impresa di pompe funibri aveva nascosto oltre 5 mila euro chi potrebbe pensare che dentro un'urna cineraria ci fossero dei soldi ma il ladro che era già un ladro esperto perché aveva diversi precedenti aveva capito che in quella urna potevano essere dei soldi la aperta e si è appropriato della somma 5 mila euro l'uomo è un macedone di 24 anni già noto alle forze dell'ordine che è stato arrestato è un ladro seriale era diventato l'incubo dei negozi e delle ditte di pesaro si introduceva di notte da una finestra o dalla porta e mirava al fondo cassa o ai soldi dei distributori automatici ma non disdegnava anche di rubare biciclette monopattini tutto quello che trovava di qualche valore finalmente è stato beccato così come si dice vediamo anche la pagina di urbino prima di giungere a quella di Fano oggi discarica una tensione per riceci la località dove dovrebbe essere realizzata questo nuovo deposito di rifiuti il sindaco Gambini adesso dice non parlo il sindaco nega di sostenere il progetto presentato in provincia e c'è insomma un po' di confusione intorno a questa vicenda che comunque solleva un dibattito molto molto intenso ed eccola la pagina di Fano l'apertura è dedicata all'ospedale Santa Croce manca un progetto lo ha dichiarato il sindaco Massimo Seri valutando un po' le intenzioni le idee della giunta regionale intorno al piano sanitario che ancora deve venire alla luce il sindaco Seri accoglie con favore i nuovi interventi di ortopedia e rilancia il consiglio monografico era stato l'assessore regionale Filippo Saltamartini ad annunciare le esecuzioni di nuovi interventi di chirurgia protesica all'ospedale di Fano che sono stati effettuati e sono stati accolti con grande favore però insomma ora bisogna pensare anche al resto non è solo l'ortopedia il punto debole dell'ospedale Santa Croce occorrono tanti altri provvedimenti ebbene questi potranno essere evidenziati e discussi in una seduta monografica del consiglio comunale richiesta dal Movimento 5 Stelle alla quale il sindaco Seri ha dato un commento favorevole e ha detto anche che si è concertato con la presidente del consiglio comunale Carla Cecchetelli per programmare questa seduta e quindi si parlerà molto diffusamente del Santa Croce che cosa manca? Mancano diverse cose sarà l'occasione, la seduta per presentare un documento condiviso che raccolga le stanze del territorio da sottoporre al presidente della regione manca un progetto al momento ancora chiaro per l'ospedale di Fano bisogna assicurare al Santa Croce le funzioni che competono soprattutto la specializzazione che aveva all'interno dell'ex azienda Marche Nord e che sono necessarie per contrastare la mobilità esterna ovvero le prenotazioni che i residenti della provincia fanno nelle strutture della Romagna un altro articolo invece di apertura del Corriere Adriatico riguarda le esigenze degli studenti che a Fano frequentano l'Università di Urbino la sede è decentrata di Palazzo San Michele ebbene questi che vengono da fuori hanno bisogno di un alloggio ed evidentemente pagano l'affitto e dopo quanto è avvenuto a Roma con le tende poste davanti all'Università anche gli studenti fanesi richiedono un alloggio a prezzi più moderati a questo proposito l'amministrazione comunale aveva già sottoscritto un accordo di programma con l'Erdis che è l'ente che si preoccupa di dare un alloggio agli studenti ed era stato preso in esame come oggetto di una foresteria l'ex collegio Sant'Alcangelo ovvero quell'ala che una volta era occupata dalla casa di riposo degli anziani è stato fatto l'accordo c'è il progetto si attende che il governo, lo Stato in base ad una legge che è stata programmata nel 2020 dia i finanziamenti ci vogliono 4 milioni di euro per riorganizzare il tutto per rimodernare quest'ala e renderla efficiente per occupare gli studenti foresteria, progetto bloccato l'Erdis attende finanziamenti nell'ex Sant'Arcangelo previsti alloggi per gli studenti della sede universitaria un articolo di cronaca a fondo pagina del Corriere Adriatico rapina la fidanzata condannato un ex poliziotto affetto da ludopatia le aveva strappato bancomat e telefonino insomma voleva soldi voleva soldi per giocare e li perdeva costantemente quasi tutti ebbene ieri il giudice lo ha condannato a 4 anni e 4 mesi e disposto la libertà vigilata per scontare in una struttura di Porto Sant'Elpidio per un limite di un anno si tratta di una sentenza che è stata combinata su Stefano Mucci 56enne di origini bergamasche ex poliziotto l'uomo che aveva ancora già precedenti alle spalle era stato sottoposto alla misura di fermo dai carabinieri di Fano giriamo la pagina vediamo ancora Fossombrone che festeggia il successo ottenuto con l'organizzazione della tappa del Giro d'Italia Giro coinvolta tutta la città il ricordo resterà indelebile il sindaco Berloni ringrazia coloro che hanno favorito il successo della tappa un successo che ha avuto un valore aggiunto alla promozione della città che è stata vista a livello internazionale ed ora si aspetta un po' il risultato di questa promozione perché Fossombrone è veramente bella e ancora vediamo che Giorgio Gragnola è stato riconfermato presidente della fondazione Carifano per altri quattro anni terminato il quadriennale precedente ora si appresta a dirigere l'ente a governare l'ente per altri quattro anni confermato nel ruolo dal Consiglio Generale alla unanimità il suo operato è stato valutato positivamente da tutti i consiglieri questo primo quadriennio è stato caratterizzato da un contesto complesso ha detto Gragnola segnato da momenti difficili che hanno reso necessarie scelte coraggiose che abbiamo sempre condiviso ha detto con tutti ovviamente la fondazione ha saputo interpretare i bisogni bisogni crescenti e mutevoli innovazione e radicamento al territorio sono stati due valori con cui sono state affrontate le sfide in atto dalla pandemia dalle necessità dai problemi economici da quelli del lavoro dai problemi ambientali a cui la fondazione ha mostrato molta sensibilità terre roveresche chi pulisce strade e piazze ha uno sconto per i rifiuti bene chi fa del volontariato paga meno tasse e questa è la decisione del sindaco Sebastianelli tu ti impegni noi ti dimezziamo le tasse e questo è lo slogan dell'iniziativa promossa ancora rinnovata quindi dall'amministrazione comunale roveresca che prevede sconti per i cittadini residenti nel territorio che metteranno a disposizione il loro tempo per lavori o servizi a favore della comunità chi deciderà di impegnarsi per esempio per pulire le strade oppure fare un servizio a favore degli studenti o ancora la manutenzione del verde pubblico oppure facendo piccole riparazioni manutenzioni impegnandosi nei servizi di supporto soprattutto per i più deboli ebbene costoro potranno avere uno sconto sulla tassa dei rifiuti quindi si tratta una nuova tassa sui rifiuti del 100% dunque diamo un po' potrà ottenere una riduzione della tarip la nuova tassa sui rifiuti del 100% della tariffa fissa di solito la tariffa fissa è la metà della tassa quindi alla fin dei conti la tassa viene ridotta del 50% quindi una bella una bella riduzione e il professore Pollini torna a studiare i bronzi a Pergola John Pollini della University of Southern California accompagnato dal collega dell'Università di Urbino l'archeologo Oscar May e dall'archeologa Ilenia Carbonari sono stati accolti dal vice sindaco e assessore alla cultura del comune di Pergola Graziano Ilari e dall'operatrice museale Sara Sabattini ebbene il professore Pollini ha compiuto molti studi sulla origine dei bronzi dorati di Cartoceto di Pergola attribuendoli al primo secolo avanti Cristo tra gli anni 50 e 30 ossia tra l'età cesariana e gli inizi di quella augustea probabilmente secondo Pollini ritraggono personaggi del gruppo dei Domizi Enobarbi antichissima famiglia romana proprietaria di sterminati campi di sterminati possedimenti terrieri confluita poi nella famiglia Giulio-Claudia quindi una famiglia molto molto nobile vediamo anche la pagina di Senigallia i partecipanti ai concorsi sono troppi il comune deve affittare un albergo addirittura tre prove all'interno dell'hotel resort Finis Afriche Olivetti il sindaco al Palace costi e disagi maggiori e quindi anche il comune risparmia ebbene pensate per tre posti da istruttore nell'area protezione civile sono pervenute 256 domande per due da collaboratore farmacista ne sono arrivate 33 per due da istruttore direttivo amministrativo 79 nel complesso sono 368 persone da esaminare solo per sette posti disponibili e per un lavoro a tempo indeterminato comunque un lavoro piuttosto così ghiotto per le persone che cercano una occupazione ed ora facciamo un escursus sul resto del Carlino le notizie ormai le abbiamo evidenziate un escursus fotografico per vedere i danni provocati dalla pioggia ci sono delle fotografie molto significative pubblicate dal resto del Carlino ecco qua quello che è accaduto al Grande Lago che si apre nel sottopasso di Loreto verso i negozi e poi vediamo qui l'asfalto frantumato della Flaminia dall'acqua che è scorsa a fiumi e poi le auto del parcheggio del Tribunale che sono state sommerse dall'acqua veramente delle immagini molto significative ma ancora significative altre immagini pioggia da record dice il titolo 90 mm e oggi un'altra giornata con Campale una macchina semi allagata in questo caso in via Terzi nella zona di Muraglia e poi una famiglia di Muraglia che guarda disperata proprio i danni dell'acqua scesa dalla collina e qui la furia della corrente del Foglia che trascina tutto quello che era ancorato ai margini agli argini trascina via imbarcazioni canotti tutto quello insomma che era ancorato e poi vedete qui la furia dell'acqua melmosa che turbolenta si agita verso valle la diga sotto pressione asfalto spazzato via persino un fulmine contro una chiesa l'università farà le lezioni online già si chiede lo stato di emergenza sono 52 le strade in tutto il territorio che hanno dovuto contenere dei sensi unici alternati vedete qui Fermignano con l'acqua tumultuosa ancora automezzi bloccati nell'acqua e vasti tratti di strade di zone urbanizzate e allagate con macchine sommerse e allora altri titoli SOS istituzioni in campo fiumefoglie e lighe sottopassi ai garage gli osservati speciali i controlli del COC la centrale operativa che si è riunita a Villa Fastigi coordinata dal prefetto Emanuela Saveria Greco e poi le aziende in panne molti danni anche all'economia scavolini tirallagati BS benelli moto gli operai a casa prima ebbene questa era l'ultima notizia qui chiudiamo ovviamente però del maltempo se ne parlerà anche nei prossimi appuntamenti della redazione e quindi io chiudo la pagina e vi saluto e vi auguro una buona giornata grazie a tutti Grazie.